Gentili telespettatori, buona giornata. Ancora lui? Eh sì, Soumaoro torna a attaccare il governo, pensate un po', e dice che la Meloni fa solo propaganda. Proprio lui ci spiega come funziona e come funziona l'accoglienza sui migranti. È incredibile, o sembra incredibile, interviene proprio lui, doveva essere già sparito dalla politica, aver dato le dimissioni e magari trovarlo in un supermercato alla cassa, invece no, è ancora in politica, perché oggi i politici non mollano l'osso della poltrona, la poltrona rende dei bei soldi che fuori non trovi, chi è che ti paga in Italia 13 o 15 mila euro al mese? Chi è che prende quelle cifre? Ma neanche direttori generali di una grossa azienda, forse quelli sì, ma si contano su poche mani. Quindi capite che lasciare una poltrona di questo tipo è difficile, dopo gli scandali sulla sua famiglia e dopo che la stessa sinistra, per esempio Boldrini, disse che lui non poteva non sapere quello che succedeva a casa sua, con uno entrato in Parlamento dicendo di essere il paladino dei migranti, il paladino degli ultimi e poi si scopre che tutta la sua famiglia faceva tutto il peggio che puoi immaginare con i migranti e lui non poteva non sapere, non è stato indagato ma non poteva non sapere quello che succedeva, sarebbe dovuto sparire dalla politica, dare delle dimissioni e far perdere le sue tracce. Invece, come tutti gli arrampicatori sociali, cerca di far dimenticare quello che è successo, cioè lui spera che in questo tempo che rimane di legislatura, lui riesca a far dimenticare tutto quello che è successo per trovare posto in un partito, perché lui ha le settimane contate, gli anni contati in politica, nel 2027 io credo che nessuno vorrà più sentir parlare di lui e non metterà più piede in Parlamento, me lo auguro questo, però lui cerca, come tutti gli arrampicatori sociali, cerca proprio di far dimenticare tutto, anche perché lui sa che alla fine gli italiani dimenticano molto velocemente. E così lui dalle pagine di Facebook prova a dare lezioni al governo sulle politiche dell'immigrazione, dicendo questo, sentite, che la presidente Meloni dopo 22 anni di bossi fini abbia scoperto che proprio questa norma fortemente voluta dalla destra a creare illegalità è senz'altro una buona notizia. E così aggiunge, tuttavia, vorrei ricordare a Meloni, aggiunge Soumaoro, che è lei, la presidente del Consiglio, invece di andare a bussare all'antimafia, venga in Parlamento a spiegare il perché di questo disastro, determinato anche dalle norme stabilite dal suo governo. I problemi creati dalla politica devono innanzitutto trovare soluzione nella politica. se la presidente vuole veramente risolvere il problema e non fare solamente propaganda politica, allora la sfido, cioè lui fa la sfido, a sostenere la mia proposta di legge nata dall'ascolto delle associazioni delle reti dei migranti, che oltre ad abolire la bossi fini, supera il click day nato con la legge turco-napolitano e mantenuto dalla bossi fini, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro in modo costante. Inoltre è urgente regolarizzare tutti i migranti già presenti nel nostro paese. Solo così si può veramente mettere al centro i bisogni delle persone. No, solo così puoi invitare milioni di persone a venire in Italia perché poi alla fine verranno regolarizzati, quindi tu entri illegalmente e poi ti regolarizzano. Ecco, diciamo che è una visione un po' devastante di quello che è l'immigrazione. Prima entri e poi ti regolarizzo. E lui dice solo così puoi mettere al centro i bisogni delle persone. E ma qui il punto non è al centro i bisogni delle persone. Il punto è che se entri in Italia illegalmente devi tornare da dove sei partito. Dicono le leggi italiane. Ecco, quindi qui non è che i bisogni. Qua se entri illegalmente non stiamo parlando di bisogni. Stiamo parlando di rimpatrio. E poi aggiunge solo così mettendo al centro i bisogni e le esigenze delle imprese italiane tenuto conto anche che il tessuto produttivo e demografico dell'Italia è profondamente cambiato ed è evoluto. Appare dunque necessario riformare strutturalmente le norme attuali, tenendo conto della pluralità dell'Italia di oggi. Vabbè, insomma, diciamo che lui si introduce in questo tema per avere visibilità, anche perché quello che si è scoperto sulla legge Bossi-Fini in realtà lo sapevamo già tutti che le criminalità e aziende fiancheggiatrici della criminalità facevano entrare persone con dei finti lavori, con dei finti permessi di soggiorno per lavoro. Cioè il permesso di soggiorno era vero, è il lavoro che non esisteva. Ecco, questo non succede solo in Italia, succede in tutto il mondo. Io ho sentito persone che per entrare negli Stati Uniti fanno queste robe qua, ci sono aziende là che fanno finta di assumerti o perlomeno ti assumono, poi ti licenziano. Tu arrivi negli Stati Uniti con il contratto di lavoro, paghi 4-5 mila dollari e poi una volta dentro puoi sparire, capite? O puoi cercarti un altro lavoro, in modo da poi avere quel lavoro vero. Va bene. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete e poi questi video sono condivisi su Facebook, su X, su LinkedIn e su Triaz. Buona giornata e buon proseguimento. Buona giornata e buona giornata.